Sono due amichevoli, sempre in agosto, che accompagnano queste due formazioni. Un test molto importante per continuare a verificare quelle che sono le condizioni della squadra che ha ottenuto un grande risultato sul terreno del Lille. Oggi un altro avversario, storico come l'Atletic Bilbao, con tanti giocatori importanti, tanti giocatori di esperienza, un test in più di avvicinamento al campionato. Accanto a me, come sempre, Alessio Scarchilli. Ciao Alessio. Ciao, ciao Alessandro, buonasera. Abbiamo di fronte, Alessio, una squadra, forse rispetto al Lille, meno fisica ma più tecnica. Conosciamo dei giocatori molto importanti, Raul Garcia, Mugnain, insomma, po' la bandiera di questa squadra. È un test questo diverso, secondo me, proprio dal punto di vista delle caratteristiche delle due squadre. Sì, è vero, anche se poi dobbiamo sottolineare che sappiamo, conosciamo la storia dell'Atletic Bilbao, dove punta su tanti giocatori baschi e quindi, dal punto di vista temperamentale e caratteriale, è sempre una squadra ostica da affrontare. Però è chiaro, questo è un amichevole. Ci auguriamo di vedere una crescita in casa giallorossa, con il mister che ha cambiato gli undici rispetto al Lille. C'è un tridente con il trequartista tutti nuovi, forse per la prima volta insieme, perché c'è De Frele come prima punta centrale, non c'è Di Gieco. E ad accompagnarlo ci sono Under, Perotti e poi c'è Antonucci, il giovanissimo Antonucci. Quindi siamo curiosi di vedere appunto come si muoveranno lì davanti i nostri calciatori. In mezzo c'è la conferma di Ievara, ancora una volta Pellegrini vicino a lui. Quindi c'è una rotazione anche in difesa, torna Mancini insieme a Gesù, se è largo c'è Spinazzola a sinistra, mentre invece a destra c'è Alessandro Florenzi. Quindi ancora una volta una formazione sperimentale che deve dare dei segnali al mister, non solo dal punto di vista individuale, ma soprattutto dal punto di vista del collettivo. E allora andiamo a leggere la formazione della Roma, che ha anticipato in parte proprio Alessio Mirante, tre pali, linea quattro in difesa con Florenzi, Mancini, Gesù e Spinazzola. A centrocampo di Ievara e Pellegrini con Under, Antonucci e Perotti alle spalle di De Frele. Risponde l'Atletic Bilbao, allenato da Gaisca Garitano, con Iunay Simon in porta, poi Capà, Yerai, Martinez e Giuri. A centrocampo Dani Garcia e Iunay Lopez, con Mugnain a destra Raúl Garcia come trequartista. Cordoba alle spalle di Inaki Williams. Questa è la formazione di Bilbao, che ha perso l'ultima contro il Racing Santander. Tre pareggi, una sconfitta, una vittoria, ma ha giocato anche Alessio partite molto importanti dal punto di vista proprio dell'avversario. Ha perso con il Racing Santander, partita impegnativa con il West Ham. Assolutamente, il West Ham è una squadra di tutto rispetto. Conosciamo bene le squadre inglesi, quanto siano dure da affrontare dal punto di vista atletico, fisico, strutturate. Quindi sicuramente hanno giocato già delle amichevole importanti. Anche Garitano sta facendo le sue valutazioni. Tra l'altro loro iniziano una settimana prima di noi la Liga e gli è capitato come calendario il Barcellona la prima. È vero che saranno in casa, però è chiaro che il Barcellona è subito un impegno importantissimo. Venerdì, proprio 16 agosto. Intanto il terreno mi sembra in perfette condizioni di gioco nel tentativo di controllo proprio di Avara. Però dicevo, il 16 agosto, sì, il debutto dell'Atletic Bilbao in casa contro il Barcellona. Insomma, ci poteva essere sicuramente il calendario migliore, ma a noi interessa chiaramente la nostra Roma in una partita molto, molto impegnativa. e il direttore di gara lo conosciamo molto bene, Fabio Marisca, Atletic Bilbao, come vedete, con la maglia verde, la seconda maglia della formazione basca, chiaramente. Insomma, la conoscete, la tradizione, almeno i più esperti di calcio riguardante proprio l'integralismo basco e di giocatori che sono e provengono tutti dal settore giovanile di squadre basche. Comunque, non possono essersi stranieri se non con parenti baschi. E questa è stata sicuramente una politica di cui magari parleremo nel corso di questa partita. Il tentativo subito lungo per Diego Perotti, che la mette giù, vuole l'appoggio ancora Perotti, viene subito aggredito, parla riconquistata però in maniera fallosa. E allora calcio di punizione per la Roma. Quando sono scorsi, Alessio, un minuto e venti sul cronometro. Ha fatto bene anche a sottolineare un po' quello che è stato un po' il cambio nella zona mediana della Roma con gli inserimenti di giocatori che non sempre sono partiti titolari. Però, chiaramente, poi in panchina a disposizione di Fonseca ci sono Paul Lopez, Fusato, Cristante, Gecko, Collario, Bessantone, Fazio, Zaniolo e Klaibert. Pallone largo per il tentativo di Mugnain. 409 presenze con la maglia dell'Atletic Bilbao. Ha debutato a 16 anni, insomma, la bandiera della formazione basca. Sì, tra l'altro ancora molto giovane poi. Sì, ha 26 anni, 409 presenze. Ancora qui il tentativo da parte di Antonucci. Partita, Alessio, che per esempio rispetto già a quella con il Lille, non è partita a grandissimo ritmo. Sì, beh, non dimentichiamo che adesso le squadre cominciano veramente ad arrivare a un momento dove le gambe sono sempre più piene, più pesanti. Quindi allenamenti e partite, allenamenti e partite. Non è facile mettere sempre il massimo dell'intensità. L'appoggio indietro da parte di Jesus per Mirante. Poi il rinvio lungo arriva alla chiusura da parte di Ierai. Indietro per Martinez. Si torna indietro da Iunay Simon. Chiaramente ci sarà poi la grande sfida con il Real Madrid del 11 allo Stadio Olimpico. La Roma che è andata in crescendo per quello che riguarda il valore degli avversari. Adesso arriva il fisco da parte di Marisca. Pallone gestito ancora dalla formazione giallo rossa con questo calcio di punizione. Pallone indietro per Mirante. Con calma per Diavara. Vada agganciare il pallone, cerca lo scambio. Un pallone orizzontale un po' pericoloso. Si inserisce qui con la conclusione non potentissima Cordoba. 21enne. E qui un errore Alessio. Un pallone orizzontale molto pericoloso. Sì, un eccesso di confidenza. Una pallone orizzontale di Diavara intercettata per il futuro. E Cordoba ha calciato di prima. Forse poteva fare ancora un tocco per avvicinarsi a Mirante. È andata alla conclusione di più in intenzione. Mirante ha bloccato un tiro non irresistibile. Ancora pallone gestito da Roma con Diavara che verticalizza. Poi lo scambio con Eperotti che ha acquisito una posizione centrale. Largo il suggerimento per Leonardo Spinazzola che prova a puntare. Viene fermato però proprio da Mugnain. L'appoggio indietro. Adesso il tentativo di verticalizzare da parte di Yirai. Palla lunga verso Williams. Attaccante dal grande fisico. Qui l'appoggio di De Frelle invece. Tentativo di Hunder che viene però fermato. Conquista del pallone l'Atletico. Qui esce con grande proprietà di palleggio. Alessio sicuramente la principale differenza con il Lille è proprio nel palleggio. Lo sappiamo. Gli spagnoli sono bravissimi da questo punto di vista. L'Atletico Bilbao. Sembra squadra forse meno veloce ma più tecnica. Beh sì poi dipende appunto il pallone sui piedi di chi capita no? Perché se pensiamo appunto ai giocatori come Mugnain. Sì attenzione. Qui intanto seguiamo la Roma però all'interno dell'area di rigore. Possibilità di andare al tiro. E qui c'è una grande chiusura da parte di Unai Lopez. Però buona questa volta al suo della Roma. Sì bravo De Frelle ad andare in percussione. A vincere anche di forza il duello. Poi peccato è mancato l'assist vincente. Nell'ultimo passaggio intercettato. Chiuso proprio all'ultimo istante. Quindi vediamo lo spunto proprio di Gregor De Frelle. L'appoggio indietro. E poi la chiusura da parte di Unai Lopez. E adesso Williams prova a controllare Mugnain. Appoggio laterale. Palla verso Kappa. Poi ancora Unai Lopez. Perde palla sull'attacco di Avarà. Ma commette fallo. Sono d'accordissimo. Siamo veramente al limite Alessio. Assolutamente sì. Perché sinceramente era stato bravo ad accorciare con i tempi giusti. Di Avarà non era fallo. Questo secondo me. Anche se poi è chiaro che non è andata a terra. Ma un po' generosa questa punizione. Ancora un pallone laterale. Gestito dall'Atletic Bilbao. Che prova a salire ottavo lo scorso anno nella Liga. Ma voglio ricordare Alessio. Una statistica importante. Che con questa politica. L'Atletic Bilbao insieme al Barcellona ed il Real Madrid. È l'unica società mai retrocessa nel campionato spagnolo. E non era facile Alessio. Beh direi. Avendo questo vincolo importantissimo sul mercato. L'appoggio verso Martinez. Che poi cerca la profondità. Si alza la bandierina sull'attacco di Cordoba. 21 anni. Uno dei più giovani. Che ha avuto subito una grande chance. Intanto andiamo subito a bordo campo. Dal nostro Matteo Vespasiani. Matteo. Ciao Alessandro. Allora per quanto riguarda naturalmente i primi. Le prime indicazioni che sta dando Fonseca. Sono quelle di un richiamo. Una squadra corta. Chiamo molto la linea dei difensori. Gli piace naturalmente la pressione che si porta. Anche sui portatori di palla del Bilbao. Per quanto riguarda invece il calcio di punizione. Poco fa non era affatto d'accordo nemmeno lui. Insomma è un tecnico in partita. Consiglie a tutti e molto dettagliati. Il pallone ancora rinquestrato dalla Tredi Bilbao con Jury. Ma permetterà anche a Undere di andare ancora e magari cercare anche la conclusione. Pallone in profondità per lo scatto di Williams che arriva sul pallone. Attenzione a Williams che prova ad accentrarsi. Lo scambio ancora riuscito con Kappa. Mugna in possibilità di andare al cross. Si ferma il tentativo di scambio. Arriva ancora Kappa. Cerca la possibilità di crossare. Poi lo scambio con Unai Lopez che alza questo pallone ancora per Kappa. Forse qui c'era il pallo. Mette dentro il pallone ma sbaglia. E allora la riconquista Perotti che passeggia pericolosamente all'interno dell'area di rigore. Ed è un giocatore di esperienza come lui. Si era andato ad avventurare una situazione quasi complicata. Erano diventati addirittura tre i giocatori dell'Atletic su di lui. Per fortuna è riuscito a sbrognare quasi dal limite della rita piccola di rigore. Ancora il pallone però gestito dalla Roma. Indietro Perotti per Jesus. Altro tocco così e così. Dobbiamo uscire da lì. Adesso Spinazzola. Pallone in orizzontale. Qui inserimento ancora di Cordoba. Poi la chiusura della retroguardia giolosa. Un po' in difficoltà con Manzini. Alla fine va a dare una mano in quella posizione. Anche Under ma sbaglia. Pallone infilato all'interno di rigore. Pensa Diavara ad allontanare. qualche Alessio in precisione. Devo dire che il campo non mi sembra assolutamente perfetto. No, non è buonissimo come la scorsa volta. Ma anche queste sono tutte situazioni che la Roma deve allenare e deve migliorare. Il fatto di non andare in apprezzione in una zona di campo delicata come quella che è l'area di rigore. O subito fuori la nostra area di rigore dove bisogna giocare in sicurezza. Sbaglia anche l'Atletic Bilbao che qui consente a Roma di ribaltare il fronte con Under. Ma è già posizionata la formazione di Gaisca Garitano. E adesso il giro palla con l'iniziativa di Jesus. Come abbiamo detto sono due precedenti con l'Atletic Bilbao. Due amichevoli e due amichevoli disputate ad agosto. Ma qui seguiamo ancora il pallone verso Antonucci. E qui ha cercato Alessio da direttore a girare ma il pallone probabilmente gli è rimasto male davanti al piede. Ma secondo me ha calciato proprio male come intenzione la palla. Lì è andato di collo pieno di potenza ad uscire quando invece il calcio sul pallo lungo deve essere a rientrare. Dove a volte puoi anche imprimere meno forza ma maggiore precisione con l'interno del piede. La gestisci meglio. Buono comunque lo spunto nell'uno contro uno di Spinazzola che poi è stato lucido appunto nello scarico per Antonucci. Ancora Mugnain che prova a cambiare gioco sulla corsia opposta. Qui viene tagliato fuori Florenzi al colpo di destra di Cordoba. Allora può salire dalla parte opposta a Giuri l'ex Real Sociedad che viene messo giù. Calcio di punizione per l'Atletic Bilbao. Dicevo delle due amichevoli precedenti. Una persa nel 98-99 con Zeman in panchina ad agosto con gol di Eschierro. L'altra pareggiata 1-1. Qui ci trasferiamo però alla stagione 2002-2003 con le reti di Battistuta e Julen Guerrero. Seguiamo il calcio di punizione per l'Atletic Bilbao che porta tre giocatori al limite dell'area di vigore. Occhio alla traiettoria di entrare. Sale anche Raul Garcia, ovviamente Williams. Tutto pronto per questo calcio di punizione. Il pallone finisce all'interno della rigore ma secondo Maresca è tutto da rifare. La squadra proprio per Raul Garcia. Si deve ripetere questo calcio di punizione. Questa è la squadra invece per Funseca. Attenzione agli inserimenti. Il pallone lungo sul secondo palo. Il colpo di testa in qualche modo ad allontanare da parte di Spinazzola che era andato a dare una mano. E adesso tutto pronto per riprendere il gioco. Qualche problema per Jesus che si rialza. È stato bravo qui Spinazzola all'interno della rigore ad intervenire perché poteva diventare una situazione pericolosa. Sì, tra l'altro ecco poi le palline attive dove loro sono molto determinati quando salgono in area avversaria. E anche questo è un punto di forza dell'Atletic. Ora il pallone indietro per Ierai. Poi lo scambio con Martinez. Ancora Ierai. Vuole un compagno in appoggio e trova assistenza di Kappa. Tra l'ittoria lunga ancora per Kappa che ingaggia il duello con Spinazzola. Cerca la possibilità del cross. Arriva però l'intervento da parte del direttore di Gara che segna le calci di posizione a Roma. E andrà ancora dopo 12 minuti a bordo campo dal nostro Matteo Vespasiani. Ci sono ancora indicazioni da parte di Fonseca, Matteo. Le indicazioni sono continue. Quando si parte da dietro chiede a due terzini di allargarsi. Naturalmente vuole al centrale e vuole giocare il pallone immediatamente. E soprattutto molti consigli anche da parte del suo staff a Mancini nel momento in cui la Roma è schierata. Insomma davvero uno studio dei dettagli molto molto approfondito. Ancora l'appoggio proprio per Mancini che questa volta scarica però un buon pallone centrale. Allora Roma riesce a dare un po' respiro alla manovra. Palla verso Spinazzola. Perotti che si abbassa poi cerca la profondità. L'inserimento di Hunder. La chiusura questa volta a buona parte della difesa dell'Atletic. E allora rinvio lungo di Ierai verso Williams. La sponda per Mugnain viene anticipato molto bene da Lorenzo Pellegrini in mezzo al campo con la giusta determinazione. Ora Diavara. Viene incontro Antonucci. Si ferma ancora Diavara. Lo scambio con Mancini e poi Gesù. Spinazzola. Vi va a vedere accanto Antonucci. Ancora Spinazzola. Vuole cambiare il gioco e riesce ad infilare il pallone per Perotti. E poi centrale viene coinvolto Lorenzo Pellegrini che prova ad innescare Florenzi. che stoppa un grande pallone all'interno della rigore. Poi cerca il cross. E forse qui c'era anche adesso un intervento su Antonucci. Gran controllo però di Alessandro Florenzi. Perfetto. Perfetto. Peccato. Ancora una volta alla Roma manca quel pizzico di qualità e anche di giocata decisiva nell'ultimo passaggio. Perfetto nella preparazione. Lì quella era il massimo che poteva fare Florenzi perché non aveva la palla così avanti per poter cercare anche di coordinarsi magari andare a calciare al volo verso la porta. Ha controllato poi ha cercato un compagno ma non è riuscito a trovarlo. Morelle giro palla da Roma ancora con Gesù. E poi allarga il gioco per Spinazzola. pallone centrale per Diavara Antonucci. Prova a salire anche Mancini. Largo suggerimento per Florenzi. Centrale ancora Antonucci. Prova a salire Florenzi Antonucci. Cerca di prendere in fondo il tentativo di cross in mezzo. La chiusura da parte di Ierai. E allora prova a ripartire l'Atletic con il lancio lungo. È un tema classico questo verso Williams che però è velocissimo ma viene fermato molto bene da Gesù. Grande intervento qui di Gesù. Sì perfetto. Non è facile nell'uno contro uno fisicamente avere la meglio di Williams. E questo è un altro aspetto che dobbiamo sottolineare. No Alessandro? La Roma molto alta. La verticalizzazione improvvisa alle spalle della linea difensiva. E la capacità e l'intelligenza dei centrali di non fare... C'è questa posizione di Diego Perotti adesso che si abbassa moltissimo. Sì sì. Quasi più centrale. Adesso viene a recuperare la sua posizione a sinistra. Però diventa punto di riferimento molto spesso dei compagni. Diavara. Scambia ancora con Gesù. Poi Perotti. Ancora l'appoggio per Mancini. Si va indietro nella zona di Mirante. E allora cerca un po' il giropalla. Ma sale anche la pressione dell'Atletic che in teoria dovrebbe essere un po' più avanti. A punto di vista della preparazione oggi un'assenza importante e anche simbolica sicuramente nell'Atletic. Quella di Aduriz. Qui la Roma sbaglia ancora in uscita. Il 38enne. Straordinario attaccante dell'Atletic di Bilbao. Pronto al rinvio Mirante. Tempo che corre sul cronometro. Siamo al sedicesimo. Pronto al rinvio proprio Antonio Mirante. Con calma Mancini. Suggerimento largo per Florenzi. Che poi gioca ancora questo pallone centrale. Roma che non butta un pallone ma rischia anche molto. Mugnain. Grande controllo. Poi va via nello stretto. A Perotti. Ancora Mugnain. Prova a verticalizzare. E qui c'è un'altra grande giocata. La conclusione da parte di Cordoba. All'eserci si è liberato molto bene. Ebbè le capacità tecniche di Mugnain sono note. Quando si accende anche nello stretto riesce a fare giocate importanti. Ora palla centrale. Bravo. Qui Under a liberarsene subito. Poi De Frelle. Prova sulla corsa per Antonucci. Viene fermato però da intervento in chiusura da parte di Ierai. Riattivo il difensore centrale. Qui c'è intervento da parte invece di Leonardo Spinazzola. Proprio su Mugnain. Calcio di pensione per l'Atletic di Bilbao. A bordo campo. Ancora da Matteo Vespasiani. Matteo. Sì. Prima magari si corre qualche rischio. L'abbiamo visto. Però Fonseca vuole assolutamente che si riparta da lì. Da dentro l'area di rigore. E sta chiamando molto Perotti dentro al campo. Infatti lo stiamo vedendo. Lo avete sottolineato. Esasperante quasi la richiesta alla squadra. di andare a portare la pressione come in questa circostanza. E qui c'è la pressione della Roma. Arriva però il fischio da parte di Marisca. Qualche problema Alessio. Partita che si infiamma subito tra Florenzi e Giuri. Esterno del Atletic Bilbao. Sicuramente Alessio questa è una partita che anche dal punto di vista diciamo così agonistico può essere un test importante. E adesso calcio di punizione per l'Atletic di Bilbao. Fondato nel 1898. Otto titoli spagnoli per l'Atletic. Ora qui un calcio di punizione regalato alla Roma. Possiamo ripartire. Attenzione al tentativo di controllo di De Frelle che in qualche modo si ritrova il pallone. Poi lo scambio con Hunder. Cerca la possibilità dell'uno contro uno. Ancora Hunder. Prova a rientrare. Vuole l'1-2. Bella azione della Roma. Interrotta ancora da Unai Lopez. Sempre molto positivo in fase di ripiegamento. E adesso il pallone è giocato ancora a Roma da Jesus. Poi Mancini. Da sentire il pubblico giallorosso qui a Perugia. Poi Pellegrini. Scambio con Diavara. Poi Jesus esce. Bene dalla presenza dell'Atletic Bilbao. La Roma fa la larga per Spinazzola che poi verticalizza per lo scatto di Diego Perotti che si ferma. Vuole un compagno in appoggio. Ancora Spinazzola. Cerca l'1-2 con Antonucci. Centrale Lorenzo Pellegrini. Cerca soluzione. Il taglio di Florenzi. Lo vede Pellegrini. Gran palla. Poi forse una spinta. E allora Florenzi riesce ad anticipare anche il portiere Unai Simon. Tensione all'iniziativa di Perotti che vuole invece qui l'uno contro uno. Ancora una gran palla dentro di Pellegrini. Sì perché ha avuto il tempo di guardare il campo. La Roma ha girato più volte il pallone. Pellegrini ha potuto alzare la testa. Ha imbeccato Florenzi che era stato bravo a stringere verso la porta. Ancora una volta gli è mancato poi la capacità di metterla in porta. Se decide di andare di prima intenzione ha cercato un controllo. Devo dire che Unai Simon è il portiere dell'Atletic. È stato anche lui bravo subito a tuffarsi addosso a Florenzi per impedirgli di girarla in porta. Palla per De Frele lo scambio con Lorenzo Pellegrini. Cambia gioco verso Spinazzola questa volta. L'attacca Mugnain e Spinazzola si porta il pallone sul sinistro. Vuole il cross. Poi arriva l'intervento in chiusura di Mugnain che concede il calcio d'angolo a Roma. Protesta un po' il capitano dell'Atletic Bilbao. Inquadratura per Leonardo Spinazzola. Seguiamo questo calcio d'angolo. Mucchio all'interno dell'area di rigore. Attenzione al cross in mezzo. L'uscita facile questa volta. Parte di Unai Simone che arriva sul pallone. Adesso ancora invece Unai Lopez. Uno dei più preziosi. Giuri. Rientra. Cerca lo scambio anticipato a Cordoba. Allora può ripartire ancora la Roma con Antonucci. Questo buono qui il tentativo di riconquistare palla della Roma. Lo fa con grande efficacia. Allora Florenzi. Vuole un compagno in appoggio. Trova ancora Mancini. Palla per Gesù. Palla che finisce ancora in fallo laterale. Protesta un po' Mugnain. Ma in realtà il fallo laterale era per la Roma. E allora Antonucci per Mancini. Pallone centrale verso De Frelle. Ancora Mancini. Lo scambio con Gesù. Viene incontro Lorenzo Pellegrini. L'appoggio invece per Mancini. Due gol per lui proprio qui a Perugia contro la formazione di casa nel giorno della presentazione. Adesso Spinazzola prova ad invitare la corsa Perotti. E viene attaccato proprio da Williams. Palla che termina in fallo laterale. Sucede veramente poco. Pochissime le opportunità da gol. Quando siamo arrivati alla ventiduesimo. Alla metà di questo primo tempo. Sempre 0-0 tra Roma e Atleti Bilbao. Ora qui Mancini porta un po' palla. Poi un po' di confusione con Diavara. Prova ad attaccare Cordoba. Palla indietro per Mirante. E allora Diavara si abbassa ancora per impostare. Davanti a lui in verticale c'è Antonucci. Lo scambio con Lorenzo Pellegrini. Poi Hunder. Molto basso. Viene a prendersi il pallone. Si gira il piccolo Turco. Vuole poi un pallone in profondità. Lo scambio con Jesus. Diavara. Palla centrale. Adesso il tentativo di ripartire. Non arriva Raul Garcia. Che viene anticipato. Sempre Diavara. Adesso Perotti. Poi palla che arriva a Defrelle. Che sbaglia qui la verticalizzazione. Non è facilissimo riuscire a fraseggiare in mezzo al campo. Loro in mezzo sono molto stretti. I corti non ti permettono. Non ti concedono grandissimi spazi. Quindi c'è bisogno di grande qualità e di precisione nei passaggi. Condizionati a volte anche Alessandro da un terreno che abbiamo detto non in perfette condizioni. No direi di no. Tanto inganna un po' i calciatori. Attenzione a questo pallone indietro. Qui c'è ancora chiusura di Spinazzola che per fortuna è velocissimo. Andiamo un po' anche da Matteo Vespasiani. Matteo proprio per il terreno che insomma ha indotto i giocatori non solo della Roma molto spesso all'errore. Uno sicuramente è un terreno che non è perfetto. Ci sono tante buche, molte colorate anche di verde magari per non farle vedere. Lo avevamo notato anche nel pre-partita. Il riguardo invece, le richieste che arrivano dalla panchina, chiama sempre passaggio, passaggio a Fonseca. Si riferisce a Pellegrini e Diavarà. Li vuole costantemente in appoggio naturalmente la linea difensiva quando hanno il pallone. Si accende qui il tono agonistico della partita con questa entrata di Raul Garcia. Chiaramente giocatore di grandissima esperienza proprio su Mancini nella zona centrale. Con lo qui inquadrato il numero 22. Sicuramente uno dei giocatori migliori di questa squadra. Atletic Bilbao che non vince il titolo spagnolo ormai da diverso tempo, esattamente dall'83-84. Ha vinto però una supercoppia di Spagna nel 2015. E adesso si becca anche il cartellino Raul Garcia un po' troppo agitato, Alessio, per questa amichevole. Dunque viene ammonito Raul Garcia. Va a parlare con il direttore di gara, Mugnain. Calcio di punizione, ritmo non elevatissimo, Alessio. Insomma, lì abbiamo visto una partita completamente differente. Si, devo dire che anche un po' l'atmosfera fa molto la sfida. Non c'è uno stadio pienissimo, però effettivamente non stanno giocando ad altissimi ritmi. Luzione qui a Williams che si avventa sul pallone, ma c'è ancora la chiusura puntuale da parte di Jesus. Ottima l'interpretazione fino a questo momento di Jesus. Rimessa a laterale che si incarica di battere il capa. Il pallone ancora per Mugnain. A dicembre compirà 27 anni Mugnain. E come dicevamo ha già 409 partite con la maglia degli atleti Bilbao. È assolutamente impressionante. Ora qui va via molto bene Cordoba, che è prova di filare per Williams. Sempre anticipato però. E allora qui Antonucci si avventura nel dribbling e perde questo contrasto. Vedi anche in queste situazioni, Alessandro, le caratteristiche di questa squadra che morde, che ti viene, hanno triplicato adesso Antonucci. Visto come anche García lì si è fatto addirittura a munire, non è un amichevole, per il temperamento che loro mettono sempre in campo. L'appoggio centrale per Lorenzo Pellegrini, che si abbassa ancora per impostare. Valla indietro di Florenzi, sempre per Pellegrini. Lo scambio con Mancini. Non trova spazi Mancini, è costretto a ricominciare. L'appoggio indietro per Diavara, che qui guarda un attimo il pallone. E allora Williams prova ad approfittarne, si piazza davanti a Mirante, ma poi arriva il gol da parte di Mugnain. Non è riuscito a tirare, è intervenuto il capitano dell'Atletic Bilbao, che al 26esimo fa 1-0. Sì, è stato intelligente Williams, perché ha rubato palla a Diavara, che comunque, ripeto, ha commesso un errore. Poi la fisicità di Williams, lo scarico dietro di Mancini per Diavara, che è stato pressato da Williams, gli ha tolto palla, ma ha cercato in qualche modo di andare a recuperare. Ma intelligente Williams, perché da attaccante non ha guardato, non ha pensato a metterla in porta, ma si è accorto dell'arrivo di Mugnain. Gli ha spostato la palla, tagliando fuori appunto Mirante dalla traiettoria, permettendo a Mugnain di poggiarla in porta. Ha toccato Alessio cadendo con l'esterno, praticamente. È una grande giocata. Probabilmente avrà sentito anche la voce di Mugnain, che arrivava al rimorco e gliel'aveva chiamata. Spesso, molto spesso, l'attaccante da lì cerca di far gol. 1-0, proprio il gol di Mugnain. Le reazioni dalla panchina, dal nostro Matteo. Sicuramente non era contento e non è stato contento Paolo Fonseca, un gesto di disappunto normale, però poi subito ha chiesto ai ragazzi di rialzare la concentrazione immediatamente. Andiamo, andiamo. Ha detto Alessandro, ti confermo che al trentesimo ci si fermerà per una pausa di 70. Direi che è anche giusto, forse oggi fa addirittura più caldo il colpo di testa lontano, perché qui Florenza è stato cabalbio a riconquistare un buon pallone. E adesso Lorenzo Pellegrini, che lo lavora sulla corsia di destra. Ancora Lorenzo Pellegrini, il tentativo di cross. Palla ancora all'interno del rigore. Qui viene saltato però Perotti dalla buona giocata di Raul Garcia, che è rimasto all'interno dell'area di rigore. Adesso Capa va a ricevere il pallone. Ancora Mugna in. È buono il lavoro difensivo di Capa, che ha stoppato al volo, uscendo dall'area di rigore il cross di Pellegrini. Saltando anche Perotti. Esatto, molto lucido appunto nell'evitare poi Perotti e far ripartire la propria squadra. Capa è l'altro esterno dalla parte opposta, un attore che ha militato tanto nella Real Sociedad. E cioè i giuri sono due elementi di forza di questa squadra. Che oggi, come la Roma, tra l'altro è priva di tanti giocatori. Pallone indietro verso Mirante. Chiaro che l'Atletic è un passo più avanti per quello che riguarda la preparazione, anche se oggi sul campo. Questo sinceramente non si sta vedendo al di là degli errori. Qui recupera William. Lo scambio con Mugna in. Attaccato da Perotti. L'appoggio indietro. Verso Ierai. Palla larga per Capa che scambia con Williams. Posizione regolare. Pallone ancora per Capa. Che non riesce ad andare via. Viene fermato molto bene da Jesus. E poi vuole lo scambio con Perotti. Uno, due. Sbaglia però in uscita il brasiliano. E allora ancora Ierai. Poggio per Martinez. Giuri. Prova a saltare l'uomo. Viene fermato. Calcio di punizione. Pallo commesso da Antonucci. Pallone giocato in mezzo al campo. Palla per Junai Lopez. Il tocco di Dani Garzia. Ierai. Ancora Martinez. Palla indietro per Ierai. Non un granché. E allora la spazza via. Sulla pressione della Roma. Mancini. Lo scarico indietro nella zona di Mirante. Oggi un laterale per Mancini. Florenzi. Viene pressato anche lui. Si gira bene. Molto reattivo Alessandro Florenzi. Sembra in grande forma dal punto di vista fisico. Soltato sempre con disinvoltura agli avversari che gli si sono posti di fronte. Intanto Spinazzola. Lo scambio con Diego Perotti che prova a prendere uno spazio centrale. Cerca di verticalizzare. Viene anticipato Under perché ha letto tutto. Qui Martinez. Altro giocatore molto importante di questo club. Calcio di punizione. Alessio è una Roma che fa fatica però a creare delle situazioni offensive. Si. Ci sta nel senso che comunque una formazione che ha giocato poco insieme. C'è la difficoltà del terreno di gioco. C'è la difficoltà degli avversari che sono una squadra appunto di tutto rispetto. Che sono soliti, sono ben organizzati, sono tecnici. Quindi vanno in contrasto senza paura nonostante sia un amichevole. Quindi è partita quasi vera direi. Siamo sotto per un paio di disattenzioni, di sbavature che abbiamo commesso. Ma che sono errori messi in preventivo in questo periodo della stagione. Soprattutto quando vuoi forzare, vuoi migliorare nella consapevolezza e nella padronanza di voler uscire dal basso con la manovra. Kulimbrek andiamo a bordo campo dal nostro Matteo Vespasiani. Matteo. C'è Fonseca che sta dicendo ai ragazzi di rimanere concentrati. Non indicazioni specifiche al momento. Hanno parlato molto Florenzi e Spinazzola. Alla fine Alessandro, quello che emerge da questo confronto è che di fatto è una partita molto equilibrata. È stato un episodio a determinarne il risultato fino a questo momento. È una squadra comunque molto concentrata e molto compatta. Florenzi sta parlando con Perotti in questo momento. Insomma, sicuramente è una Roma che può e deve e sa reagire. Grazie a Matteo Vespasiani. Adesso squadre che riprenderanno il match. Questo Kulimbrek che è durato i canonici due minuti. Una Roma, Alessio, che sta trovando qualche difficoltà. Non è neanche semplice su questo campo contro una squadra molto tecnica che fa girare il pallone con le tante assenze che è la Roma. E con i giocatori, chiaramente sono in panchina di grande importanza per Giallodossi. E adesso arriva il gioco che riprende con il direttore che, lo ricordo, è Marisca. Ma intanto vediamo in tribuna anche Materazzi, Alessio, che insomma qui sicuramente conosce molto bene l'ambiente. Vabbè, direi, diciamo che ha iniziato a mettersi in mostra da queste parti, no? Pallone gestito ancora dall'Atletic Bilbao con questo tentativo di verticalizzare. Pallone largo per Mugnain che poi viene anticipato. E allora Diavara cerca di riproporre un tema per la Roma. Pellegrini, lo scatto veloce di Hunder. Esce, attenzione, forse poteva tentare il pallonetto. Lo fa in un secondo momento con il sinistro. Per un attimo adesso, secondo me, ci aveva anche pensato a rinunciare. Assolutamente, ma anche quando se ne è accorto che è riuscita a portarsela sul mancino, logicamente il suo piede naturale, non è riuscita a scavarla benissimo. C'era la possibilità di metterla in porta. Seguiamo il calcio di punizione, battuto... Non gli è partito benissimo. Sì, non gli è partito bene, sì. Battuto dall'Atletic Bilbao con Yerai. Cerca poi la battuta profonda con il destro, ma viene fermata. Ancora Yerai. Pallone laterale per Giudy. Sempre dietro per Unain Simon, l'Atletic è in vantaggio con il gol realizzato al 26esimo proprio da Mugnaine. Williams prova a tenere il pallone pollento nelle muvenze Williams, ma è il giocatore che ha dimostrato la sua importanza soprattutto dal punto di vista fisico. E ora rimessa laterale che si incarica di battere Antonucci, anzi poi lascia il pallone a Spinazzola. siamo nell'ultimo quarto d'ora di questo primo tempo. Con la Roma che si è affacciata spesso in particolare, ha cercato di creare situazioni della corsia di destra, cioè dove si muove Alessandro Florenzi. Adesso Spinazzola prova a girarla dalla parte opposta. Il pallone che viene agganciato ancora da Florenzi. Pellegrini. Poi Gesùs. L'appoggio laterale per Spinazzola. cerca di dare un'occhiata al centro. Ancora Spinazzola trova tra le linee. Buona qui l'azione di Roma. Buona anche secondo me l'intuizione di Hunder che aveva dato un pallone dentro per De Frel. Orian Tonucci. Esiste la carica e adesso Perotti può andare a cercare il cross. Il pallone dentro però salta Martinez e allora palla riconquistata ancora una volta da Williams che subisce fallo alle spalle. E vedi loro ti costringono spesso a commettere fallo perché sono bravi nella protezione del pallone. Anche se qui Williams sembrava poco pulito nel controllo, poi hai visto come si è reso conto dell'arrivo di Spinazzola, ha messo il piede davanti e adesso permette alla squadra di risistemarsi. Seguiamo questo calcio di punizione per l'Atletic di Bilbao. Con calma va a battere Ierai, si sistema la formazione di Gaisca Garitano. Palla lunga verso Florenzi ma arriva prima il colpo di destra di Raul Garcia che poi gancia il pallone allo scambio con Cordoba. Palla indietro per Martinez che non si fida e chiama in causa Iunay Simon. con Ierai. Fa larga per Capa che prende il tempo a Perotti. E allora Iunay Lopez, Jury, mette a terra il pallone l'ex giocatore della Real Sociedad che poi cerca Cordoba, c'era stato il sedimento centrale ma non viene visto Raul Garcia. La rimessa laterale ancora per l'Atletic Bilbao con Raul Garcia. Circa lo scambio, qui è una cannonata quella stoppata da Cordoba ma riesce comunque ad entrare all'interno della rigore. Qui ha altro errore, Alessio, nel tentativo di chiusura. Era stato favorito Williams che per fortuna, Alessio, giocatore però di grande fisico ma non è velocissimo, no? No, infatti anche se qui ancora una volta per fortuna anche la loro condizione è non perfetta. Adesso c'è uno scontro dove rimangono a terra entrambi i calciatori. Si rimane a terra Mancini con... Vediamo un po' qui. Forse qui è stato toccato duramente Mancini ma anche Raul Garcia. Si rialza, comunque il centrale giallorosso. E adesso il tempo, Alessio, che rimane a Roma in questo primo tempo per trovare il pareggio, non è tantissimo. Andiamo ancora a bordo campo del nostro Matteo Vespasiani. È cambiato qualcosa, Matteo, proprio nel modo di approcciarsi alla squadra di Paolo Fonseca che vediamo proprio inquadrato in questo momento. Sì, da qualche minuto Fonseca sta parlando con il suo staff sicuramente pensando anche al secondo tempo o a qualche accorgimento. Ha chiamato meno i giocatori negli ultimi cinque minuti ma c'è un confronto molto fitto con i suoi collaboratori. Dall'altra parte devo dire che Gazzia Garritano che si arrabbia moltissimo ad ogni passaggio sbagliato vuole una pressione e vuole una garra per rimanere forse in un termine a loro più appropriato, continua. E sicuramente abbiamo visto in molte fasi del gioco che è stato accontentato. Gazzia Garritano che da giocatore ovviamente ha giocato anche con l'Atletic Bilbao ma lega soprattutto la sua carriera a Leibar con cui ha annoverato quasi 200 presenze da giocatore e poi l'ha anche allenato come vice e poi come capo allenatore la sua iniziale esperienza proprio da coach. Il pallone è gestito da Jesus. Palla verso Mancini si abbassa molto nelle vesti di playmaker Lorenzo Pellegrini cambia ancora con Mancini poi Florenzi quasi sulla linea alfa laterale lì è un pallone difficile però da giocare infatti la Roma lo perde. Ora indietro l'appoggio per Ierai Martinez loro Alessio quando sono sotto pressione non c'è spazio diciamo così per l'appoggio non vanno molto per il sottile. No 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 ma infatti hai visto che ci sono per essere una migliore Alessandro ci sono stati anche diversi scontri di gioco vanno molto decisi spesso vanno in tecla di scivolata senza prendere neanche troppe precauzioni comunque è precampionato il campionato si avvicina anche l'importanza in queste partite di non farsi male. Rimesso laterale che va a battere K.A. il movimento di Williams che però non viene visto e allora l'appoggio ancora indietro per Ierai attaccato da Antonucci va verso Iunai Simon Martinez ancora Ierai c'è il largo K.A. il movimento dettato da Williams però preferisce palleggiare l'Atleti Club sicuramente guai a chiamare l'Atletic Atletico perché c'è una forte rivendicazione ovviamente della derivazione assolutamente britannica di questo club ora il pallone appoggiato indietro ancora per Ierai Simon Ierai Lopez l'appoggio ancora per Martinez lo scambio a buona velocità a Cordoba 1-2 ancora con Giulia ancora Cordoba eccolo qui l'ex Real Sociedad che appoggia il pallone centralmente si va a vedere larghissimo pronto a ricevere il pallone Raul Garcia ma una palla irraggiungibile si arrabbia un po' qui Gaizka Garritano fallo laterale battuto rapidamente da Spinazzola e allora Gesus ancora centrale di Avara questa volta è lui ad impostare l'appoggio per Mancini movimento lungo di Florenzi ma c'è ancora l'appoggio per Gesus Perotti viene a giocare il pallone dal basso ancora Diego Perotti un po' il pallone sulla linea mediana nel campo poi la Roma non riesce a sviluppare azione ma c'è fallo laterale per la direzione di Jury la che finisce nuovamente nel fallo laterale Alessio nella seconda parte di questo primo tempo la Roma fatica tanto Sì devo dire che abbiamo fatto delle buone cose nel senso che comunque siamo riusciti a volte a sviluppare in velocità in rapidità c'è mancato poi il colpo finale la qualità nell'ultimo passaggio nell'ultima scelta nella decisione perché poi è fondamentale per arrivare al gol abbiamo pagato a caro prezzo qualche sbavatura qualche errore perché ripeto di fronte è una squadra di alto di alto livello ed è normale che quando commetti degli errori rischi di prendere gol siamo sotto in questa parte finale del primo tempo fatichiamo un po' a mantenere a fraseggiare vedi a volte ci sono errori forzati proprio perché ancora non siamo così né lucidi né sicuri di poter gestire il pallone anche sotto la pressione dell'avversario tanto si stanno scaldando Cristante poi Fazio Kolarov vedo anche Zagnolo ma andiamo proprio per chiarire il tutto da Matteo Vespasiani sì Alessandro mi hai preceduto di qualche istante si sono alzati questi cinque calciatori della panchina della Roma e come vi avevo detto prima Fonseca aveva parlato con i suoi collaboratori insomma abbiamo potuto capire percepire che nel secondo tempo cambierà almeno metà squadra direi assolutamente sì come è accaduto per gran parte delle amichevoli questa è l'ottava per la Roma e intanto calcio di punizione per la Roma altro fallo altra munizione per l'Atletic il pallone messo giù ancora una volta da Spinazzola forse questa volta l'ultimo tocco secondo me non se n'è accorto secondo me il fallo laterale questa volta era loro Alessio però bene così adesso l'appoggio centrale per Diavara Under cerca l'1-2 ma non trova diciamo così la precisione nel palleggio poi qui esce Martinez che perde palla e poi l'allontana Cordoba quella che finisce in fallo laterale gran controllo a parte di Paolo Fonseca riscuote anche gli applausi non solo del pubblico della Roma ma anche dei tifosi dell'Atletic Bilbao perché sono presenti comunque qui al Renato Curi di Perugia e adesso calcio di punizione aggressiva Roma troppo Lorenzo Pellegrini che va a commettere fallo calcio di punizione siamo al 44esimo ma c'è da recuperare anche il cooling break e allora Kappa prova ad andare via fallo su di lui da parte di Diego Perotti calcio di punizione segnalato da Maresca va indietro per Ierai lo gioca verso Martinez attaccato da De Frel suggerimento largo ancora indietro si torna da Iunay Simon che poi morbido con il destra va a cercare Kappa aggressivo Spinazzola il colpo di testa pallone che arriva Mugnain la giocata ancora stretto di Mugnain e vedi che non è facile poi togliergli la palla anche loro dietro non hanno paura di tenere palla di giocare hanno sempre la predisposizione a dare al compagno in posa sua palla più soluzioni di passaggio Ierai l'appoggio per Kappa che guadagna qualche metro vado ad attaccarlo Diego Perotti sono tre i minuti di recupero Perotti che riconquiste il pallone ma commette fallo calcio di pensione per l'Atletic Club che è in vantaggio per un anziaro con il gol realizzato proprio da Mugnain al 26esimo tre minuti di recupero che vengono esposti in questo momento ora palla per Ierai attenzione al movimento lungo reclama qui il pallone Cordoba secondo i giocatori dell'Atletic che ha commesso fallo attenzione a Cordoba che però la riconquista e allora attenzione invece centrale anche il movimento di Williams la conclusione che viene ribattuta ci ha provato Giuri sbaglia tutto l'ex Real Sociedad perché Cordoba era tra l'altro solissimo all'interno della rigore sì esatto anche Mugnain e Williams hanno accompagnato l'azione lui si è disinteressato facendo un po' arrabbiare i compagni ora il break da parte di Atletic Bilbao ancora un cross in mezzo pallone che attraversa il limite della rigore allora può ripartire ancora alla Roma con Diego Perotti vediamo se riusciamo a ribaltare le fronte valla per Spinazzola che cerca di superare Capa che però è un avversario molto difficile molto fisico leve lunghe grande passo rimessa che va a battere Perotti l'appoggio ancora indietro per Jesus a ultimi minuti di questo primo tempo Mancini largo per Florenzi viene incontro Lorenzo Pellegrini 1-2 con Under ancora Pellegrini non ci sono spazi per verticalizzare poi alla fine si rifugge ancora largo verso Alessandro Florenzi che prova a puntare con lo scambio con Antonucci al limite dell'aria di rigore pallone poi largo per Spinazzola azione avvolgente da Roma che cerca di allargare il gioco ancora Spinazzola 1-2 con Antonucci poi fuori per Diavara ancora Jesus buona scelta di Roma nel giro palla Mancini da un'occhiata in avanti scambio con Antonucci poi tocco un po' corto allora Under arriva e poi subisce fallo calcio di punizione forse l'ultima opportunità di questo primo tempo si una palla una palla inattiva conquistata non vicinissima alla porta c'è Pellegrini sta sistemando il pallone insieme a Under vediamo se andranno direttamente in porta anche se la sostanza importante credo che Pellegrini andrà a crossare visto che stanno salendo anche Jesus e Mancini in area avversaria salgono i centrali giallorossi in questo finale di primo tempo seguiamo dunque il cross in mezzo Lorenzo Pellegrini o Under con una traiettoria più verso la porta ma sembra attenzionato proprio Pellegrini a cercare sul secondo palo ovviamente inserimento di Mancini che qua ha già fatto doppietta ma c'è anche ovviamente la possibilità di Jesus che sale all'interno di rigore vediamo un po' Pellegrini e Under parte proprio Lorenzo Pellegrini palla indirizzata sul secondo palo c'è deviazione e c'è anche calcio d'angolo era una buona palla sì non era male anche se un pochino in ritardo nel chiudere sul palo lungo Spinazzola anche se poi anticipato Rafferotti qui non aggancia il pallone allora non si fida qui Antonucci preferisce appoggiare indietro e finisce anche il primo tempo sul risultato Alessio di 1-0 per l'Atletic Bilbao la Roma ha sviluppato qualcosa in particolare sulla corsia di destra è mancata un po' di cattiveria lì davanti ma più che altro la differenza l'ha fatto l'errore nel senso che la Roma ha creato diverse occasioni si è fatta vedere con vivacità ed intensità all'interno dell'area del rigore avversario ma non è riuscito a trovare il gol ha pagato qualche sbavatura che c'è stata in fase di impostazione qualche passaggio sbagliato perché altrimenti non ha concesso tantissimo ad un Atletic Bilbao che logicamente sta confermando di essere un avversario di tutto rispetto dunque finisce il primo tempo qui al Renato Curi con il risultato di 1-0 per l'Atletic Bilbao con il gol al 26esimo realizzato da Mugnain noi ci fermiamo per il break poi di nuovo qui per con con grazie a tutti 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 il cambio in difesa a Jesus però Alessandro la cosa interessante è vedere sempre l'alternanza molto precisa l'altra volta Jesus aveva giocato molto, oggi gli ha dato un tempo e sta facendo recuperare Mancini e Fazio in maniera alternata ritrova continuità Spinazzola stessa storia per Cristante mentre Pellegrini che aveva giocato molto meno con Lille oggi trova almeno sicuramente i 70 minuti insomma un ragionamento sempre molto preciso e allora andiamo con questo secondo tempo, andiamo a ribadire la formazione che ci ha appena annunciato Matteo con Paolo Lopez dunque in porta, linea 4 in difesa con Spinazzola che si piazza a destra al posto di Alessandro Ferezzi a sinistra va Alexander Colaro, Befazio e Mancini sono a coppia centrale, in mezzo al campo Cristante e Lorenzo Pellegrini con Zaniolo chiaramente a destra Perotti rimane a sinistra con Antonucci alle spalle di Gregoire De Frelle adesso cercheremo di capire se è cambiato qualcosa a tre di Bilbao ma mi sembra proprio di no di rivedere gli stessi undici del primo tempo anche perché adesso c'è da sottolineare una cosa loro sono molto più vicini diciamo così al campionato e quindi magari opera un po' meno sostituzioni il tecnico Gaisca-Gheritano Iunay Simon nel primo tempo poi Capagli e Rai Inigo Martinez e Giuri in difesa con Dani Garcia Iunay Lopez al centro campo anche se Mugnain adesso è quasi un 4-4-2 ha dato una grande mano con Cordoba a sinistra Raul Garcia ridosso forse quasi un 4-4-1-1 con Raul Garcia alle spalle di Williams e poco altro Esatto è chiaro che Raul Garcia ha la possibilità e la libertà di accompagnare di diventare trequartista in fase di possesso palla ma spesso devi osservare una squadra come sistema di gioco nella fase difensiva a meno che non decidi andare a prendere altri ma loro spesso quando ripiegano si mettono 4-4-2 pallone largo sbagliato questa volta da Cordoba che ha giocato un discreto primo tempo rimessa tra le va a battere dunque Leonardo Spinazzola prova a farsi vedere Zaniolo il movimento di Zaniolo per valla per Antonucci che cerca di gestirla ma viene riconquistata immediatamente dall'Atletic la sponda di Williams per Raul Garcia che fa viaggiare ancora Williams è buono questa volta l'aggancio prova a puntare subito Mancini ancora Williams difende il pallone poi finisce a terra c'è fallo la sensazione adesso è un po' che l'Atletic Bilbao nel momento in cui spedisce il pallone a Williams accompagna un po' poco in questo caso non ha accompagnato nessuno perché bella la giocata che hanno fatto insieme appunto a Garcia che gli ha restituto palla al volo però poi nessuno l'aveva accompagnato anche questo fallo un po' dubbio secondo me perché Pellegrini aveva capito le intenzioni dell'attaccante dell'Atletic che voleva logicamente indietreggiare aspettare e far salire i compagni qui a Roma si fa un po' sorprendere su questo calcio di punizione con il cross non un gran che a dire il vero da parte del numero 11 Cordoba scambio tra Paolo Lopez all'interno scambio rischio mille per la Roma che però come abbiamo già capito ormai da diversi amichevoli ma come già abbiamo capito anche guardando semplicemente le partite dello Shakhtar Donets su indicazione di Paolo Fonseca vuole giocare il pallone dal basso sempre si qui nonostante loro hanno fatto capire di venire a prendere alti la Roma la Roma ha cercato di uscire con la manovra ora pallone riconquistato ancora dalla Roma con calma Pirotti guadagna qualche metro poi scava il pallone per l'inserimento di Defrel palla che viene allontanata l'anticipo da parte di Fazio prova ad andare si avventura Fazio qui in dribbling buono il dribbling di Fazio che poi scarica il pallone per Colaro ricevegli applausi Federico Fazio ma il pallone viene gestito ancora a centrocampo da Brian Cristante che la gira dalla parte opposta nella zona di Spinazzola buono compagno in appoggio lo scarico per Zagnolo 1-2 con Spinazzola ancora dentro per Zagnolo cerca di accelerare a Roma palla per Defrel palla per Antonucci e poi arriva la chiusura in qualche modo della difesa dell'Atletic qui un po' in difficoltà abbiamo sviluppato bene noi e loro sono stati brevi a non farsi sorprendere perché non era male la giocata della squadra giallorossa però in estremi si è visto come come spesso fanno vanno in tecle scivolata anche se al ridosso dell'aria è rischioso perché puoi commettere fallo però riescono spesso a sbrogliare situazioni complicate però a mantenere alta la pressione la Roma Fazio giganteggia questa volta su Williams allora ancora Fazio lo scambio con Alexander Kolarov che è costretto a ricominciare azione palla centrale per Pellegrini guadagna metri Lorenzo ha chiamato per un attimo la profondità Spinazzola poi qui pasticcia ancora una volta Cordoba e allora rimessa laterale per la Roma che adesso è costantemente nella metà campo dell'atletico Bilbao Fazio e poi Cristante Kolarov cerca di prendere il tempo riesce a trovare centralmente ancora Lorenzo Pellegrini buono il drivi da parte di Lorenzo che poi allarga molto bene per l'iniziativa di Diego Perotti che può puntare uno contro uno con Kappa cerca lo spazio per il cross e lo effetto in questo momento si stacca bene ancora una volta Martinez nettamente il migliore lì dietro per l'atletico Bilbao ancora Perotti cerca di puntare vuole un compagno in appoggio non trova nessuno posizione centrale per Brian Cristante che poi allarga ancora nella zona di Spinazzola che mette giù il pallone punta anche lui lo scambio con De Freire che si è staccato dai blocchi difensivi dell'Atletic pallone sul secondo palo Perotti un po' prevedibile e allora qui può uscire ancora Mugnain l'appoggio centrale per Raul Grazia tutto in verticale l'atletico adesso con Williams che poi protegge però il pallone dall'attacco di Colaro l'appoggio per Mugnain cerca il giropalla la formazione di Gaisca Garitano e lo trova con l'appoggio per Giuri prova a salire l'ex Real Sociedad che viene messo a terra proprio sotto gli occhi di Mugnain a calcio di posizione Alessio ha munito anche Zagnolo per proteste qui che si lamenta dell'intervento che secondo lui non era falloso un po' a limite tratto deciso Alessio ma forse da cartellino giallo in dire andare da Matteo Vespasiani proprio su questo episodio sì sicuramente per qualche parola di troppo non trovo non tanto per il fallo Maresca prima ha utilizzato un po' lo stesso metro di giudizio con il giocatore dell'Atletic era andato a spiegare a Mugnain che si era lo aveva munito non per il fallo ma per la reazione poi verbale che aveva avuto stesso metro di giudizio però sta fischiando qualche fallo che anche a Fonseca non è piaciuto ora il pallone largo ancora per la discesa di Kappa che poi si firma però e allora Martinez pallone profondo per lo scatto di Williams che è in posizione regolare l'uscita puntuale da parte di Paolo Lopez il colpo di testa di Antonucci poi l'appoggio indietro per Ierai ancora in mezzo in campo prova a manovrare l'Atletic con il pallone largo per Giudy attaccato da Zaniolo che commette fallo calcio di punizione Zaniolo però deve imparare a gestire la sua fisicità perché già di suo è un giocatore spesso vincente nei duelli però commette molti falli anche qui in gioco pericoloso non aveva controllato bene l'avversario però così gli risolvi la situazione perché in una situazione dove tu puoi trarre vantaggio e portargli via palla se vai sempre in ruento e commetti e commetti fallo l'appoggio ancora per Iunay Simon quando il tempo continua a proseguire siamo al sesto minuto ancora il giro palla da parte dell'Atletic e allora Martínez da un occhiato in avanti un po' ferme adesso le squadre poi l'appoggio per Giudy Martínez che sta aspettando di far salire un po' la Roma per cercare poi di sviluppare trovare trovare spazi si muove un po' meno in avanti adesso la formazione di Paolo Fonseca e allora il tentativo qui di Vilo di Raul Garcia con il pallone che termina direttamente in fallo laterale la rimessa per la Roma appoggio verso Mancini ma è sbagliato questo fallo laterale poi però rimedia in qualche modo Pellegrini poi prova ad andare Spinazzola ancora Leonardo Spinazzola si infila in mezzo a due uomini pallone che arriva in qualche modo a Zaniolo che poi lo lavora per Pellegrini Mancini appoggio centrale Cristante ancora Mancini prova a farsi vedere riceve largo il pallone Spinazzola poi lo riconquista Giuri lo scambio con Ierai esce bene l'Atletic con questa giocata occhio al pallone laterale ci arriva in qualche modo Cordoba che prova a puntare verso l'area di rigore giallorossa ancora Cordoba cerca il dribbling l'appoggio indietro poi lo scambio con Iuna Lopez che cerca il destro pallone che termina alto è bella bella questa conclusione perché da fermo è riuscito ad imprimere una potenza e la palla poi è scesa all'ultimo dietro la traversa sembrava una conclusione non pericolosissima invece si abbassa all'ultimo guarda Alessandro come ha calciato si infatti ha battezzato fuori Paolo Lopez che chiaramente conoscerà molto bene questo avversario ora qui esce che palla al piede Ierai molto bene anche il numero 5 dell'Atletic per cui intervento da dietro un po' in ritardo questa volta Mancini su Cordoba calcio di punizione guardatura per Lorenzo Pellegrini e poi Mancini calcio di punizione per l'Atletic Bilbao con Ionai Lopez sono tre uomini all'interno dell'area di rigore tutto pronto per il cross va proprio Ionai Lopez ovviamente occhio a Williams ma occhio anche ai due centrali dell'Atletic che sono saliti pronto proprio il numero 8 a mettere dentro con il destro pallone assolutamente non insidioso l'uscita tranquilla di Paolo Lopez quando siamo arrivati al 10 stavo guardando Alessandro il duello Fazio ieri perché se ne sono date di santa ragione gli allimi dell'area per prendere lo spazio e eventualmente andare a saltare poi ci ha rinunciato ieri perché si sono spintonati adesso il tentativo di uscire da Roma perché alza la pressione l'Atletic non riesce ad uscire Perotti che appoggia questo pallone centrale per Pellegrini disimpegno un po' elaborato della Roma ma non poteva fare altro Perotti sulla pressione della formazione spagnola però spesso viene molto basso Perotti a prendere palla Alessandro lui sappiamo quanto ama toccare più volte il pallone però quando è così basso poi magari viene a schiacciarti troppo sul terzino anche se spesso vuole Fonseca più che altro ecco l'esterno adesso ha tagliato il campo all'interno del campo proprio per liberare la corsia esterna al terzino di parte pallone per Perotti forse soluzione in questo caso un po' lunga poi Perotti finisce fuori dal campo giustamente duello tra i due numeri otto Perotti ha dovuto evitare diciamo così il tabellone pubblicitario qui rivediamo ancora hai visto come è stato però Unai Lopez attento ad andare a limitare l'eventuale cross se Perotti ci fosse arrivato ma poi si è comunque trattenuto nel non toccare palla e concedere un angolo alla Roma sempre il fatto di ragionare in qualsiasi situazione primi dieci minuti di questa ripresa andiamo da Matteo Vespasiani a bordo campo Gasca Caritano ha fatto alzare sei giocatori dalla panchina ed ora in questo momento si sono alzati anche Santon Dzeko e Justin Clivert invece da quella della Roma iniziano il riscaldamento non aveva cambiato nessuno Garitano sicuramente vuole provare la squadra che si sta avvicinando a questo incontro di campionato con il Barcellona si campionato più vicino esattamente tra nove giorni il debutto dell'Atletic contro il Barcellona che per il momento non ha Leo Messi per un problema al Pulpaccio ma potrebbe in nove giorni anche a recuperare intanto colare vabbè pallone messo in mezzo anticipato Antonio C fa ancora il tentativo di Lorenzo Pellegrini qui adesso il scontro è durissimo si devo dire che si sono fatti malentrambi perché Pellegrini ha cercato la conclusione in porta non rendendosi conto della vicinanza credo di Mugnain no non è Mugnain scusami è Cordoba si è Cordoba non c'era proprio lo spazio secondo me per calciare perché lì avrebbe dovuto far scendere di più la palla per poterla colpire bene vedi vedi anticipa si trova addosso l'avversario si vanno male entrambi eh si qui scontro molto duro Albi assegna il calcio di posizione alla Roma giustamente ma sembra in grado di poter proseguire tranquillamente Lorenzo Pellegrini il duello con Cordoba e intanto diciamo Matteo grande movimento accanto alla panchina di Gaisca Garitano dove ci sono con la maglia numero 13 il Reign con la maglia numero 2 Ganea poi Lugnez la Razabal poi il bosniaco contro Kenan con Besga e Sanzete questa la panchina dell'Atletic al quale mancano diversi giocatori ripeto così come Roma quelli che abbiamo elencato proprio ad inizio di questa telecrana che seguiamo il calcio di posizione per la Roma a distanza è ragguardevole anche se c'è il sinistro di Alexander Colaro però siamo Alessio è molto lontano oltre diciamo quasi oltre la tre quarti campo intanto Lorenzo Pellegrini Claudicante andiamo a bordo campo Matteo chiari e evidenti i segnali del dottor Manara alla panchina un colpo per Lorenzo Pellegrini un colpo vicino diciamo allo stinco tra caviglia e stinco e una piccola forte anzi contusione però per fortuna insomma sembra davvero nulla di grave dunque lì proprio di fronte al nostro Matteo Esplasiani Lorenzo Pellegrini pronto sembra ad entrare sulle terre di gioco come pronto sembra Alexander Colaro non so se a sparare direttamente in porta anche se beh da come si è messo con il corpo per me va diretto in porta potrebbe anche essere Alexander Kolarov con il sinistro parte la traiettoria girare un gol pazzesco di Alexander Kolarov che fa 1-1 Alessio lo sapevamo era lontano ma lui può mamma mia che gol Alessandro spettacolare forza e precisione potenza e precisione sì pensavamo fosse improbabile ma non per lui che va a calciare in maniera perfetta a disegnare una traiettoria davvero strepitosa e fa 1-1 1-1 il gol di Alexander Kolarov al quindicesimo forse questa adesso è la punizione più bella calciata da Kolarov nella sua carriera in giallo rosso perché abbiamo visto tante in campionato magari con deviazioni oppure anche un po' sporche questa invece è una traiettoria limpida perfetta sotto l'incrocio dei pari niente da fare per Iunai Simon 1-1 esatto Iunai Simon che tra l'altro non ha messo neanche una barriera folta perché logicamente forse non si aspettava neanche il tiro in porta solo due uomini invece è stato fulminato dalla punizione di Kolarov le reazioni dalla panchina Alessio per questo gol di Kolarov con il nostro Matteo Espasiani sì tutta la panchina in piedi bellissimo l'applauso di Florenzi che ha fatto qualche metro in avanti ha battuto le mani per 20 secondi davvero un gol stupendo Alessandro intanto intanto mentre naturalmente si festeggiava Garitano ha fatto un cambio è entrato Nunez è uscito Cordoba dentro Nunez per Cordoba che credo sia rimasto tra l'altro infortunato nello scontro con Lorenzo Pellegrini e qui entrata durissima cartellino rosso per Giuri ha espulso il numero 17 è entrata senza senso Matteo è giusta l'espulsione intervento bruttissimo da parte di Giuri davvero Maresca è stato senza senza esitazioni è andato subito a stare nel cartellino rosso si è arrabbiato moltissimo Kolarov e insomma l'intervento è stato terribile un intervento da cartellino rosso senza dubbi e dunque dopo il gol di Alexander Kolarov qui rivediamo adesso l'entrata veramente senza senza proprio un minimo di ragione in una partita come questa è veramente fuori luogo per fortuna che non è entrata la gamba tesa sul piede d'appoggio sul piede a terra ma con la gamba di richiamo va quasi a forbice è chiaro che è veramente un'entrata fuori luogo in una gara amichevole dunque spulso l'esterno sinistro del Atletico Bilbao che sta ancora protestando Giuri e dunque adesso vediamo come si sistema la squadra allenata da Giaisca Garritano sicuramente non avrà gradito questa entrata del suo esterno 1-1 comunque con la rete di Alexander Kolarov che è arrivata esattamente al quindicesimo e adesso Roma può approfittare anche della superiorità numerica adesso la fiondata ancora di Cristante per De Frelle che controlla all'interno dell'area di rigore non si sente Alessio di andare al tiro adesso lo scambio tra Spinazzola e Zagnolo porta il pallone con il sinistro ancora Zagnolo poi scambia con De Frelle Roma che adesso ha sicuramente l'opportunità di poter gestire al meglio questa superiorità numerica prova ancora sulla corsia di sinistra con la rete veramente bellissima molto bello cristante adesso Antonucci cerca di filtrare il pallone recuperato su Zagnolo qui perde palla e arriva il calcio di rigore no 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 aveva indicato sembrava il calcio di rigore in semente maresca poi il pallone è andato sul fondo quindi vediamo mamma mia che palla persa adesso all'interno di rigore pericolosissima da Capa che si avventura un dribbling su Perotti e ora Fazio aveva Alessio aumentato la corsa maresca come se volesse fare qualcosa di ecladante ma si è semplicemente come giustamente visto il pallo di fondo adesso Antonucci lo scambio con Spinazzola poi ancora Lorenzo Pellegrini poi Perotti ancora Poggio per Spinazzola adesso ovviamente ancora più chiuso l'Atletic che sta giocando adesso con un 4-4-1 praticamente è andato a sinistra con la maglia numero 4 Martinez attenzione ad Antonucci però che viaggia centrale Antonucci può forse andare al tiro ci ha provato il colpo di testa di Perotti poi quello a lontanare da parte di Ierai due tocchi in più secondo me di Antonucci che è stato provo ad andare in percussione a sfruttare il movimento in profondità di Zaniolo che gli ha portato via la linea difensiva avversaria al momento che ha deciso di calciare era ormai troppo tardi è stato chiuso si è piazzato Nunez largo a destra intanto il pallone gestito da Cristante che vuole verticalizzare poi cerca di uscire qui l'Atletic ma la Roma riconquista subito il pallone riconquista alta per gli uomini di Paolo Fonseca che sono arrivati al pareggio grazie alla punizione la straordinaria traiettoria balistica disegnata da Alexander Colaro qui Antonucci mette in mezzo questo pallone adesso si difende soltanto l'Atletic Bilbao che non riesce ovviamente ad uscire sotto di un uomo abbastanza curioso direi non amichevole ora Perotti cerca l'1-2 con Antonucci che scava il pallone però ad arrivare anche Zagnolo che resiste alla prima carica poi ancora Zagnolo che nell'ill pallone si inserisce nella tradittoria Perotti e adesso Spinazzola cerca il dribbling ma là viene conquistata Mugnain che vuole 1-2 con Williams viene aggredito da Cristante palla che arriva nuovamente nella zona di Unai Simon si riparte con Nunez che adesso sta facendo il centrale lo scambio ancora con Dani Garcia largo ancora il suggerimento per Martinez poi Ierai continua a far girare il pallone ancora Martinez cercata l'attoria profonda per lo scatto di Williams viene anticipato da Mancini Spinazzola siamo arrivati al ventesimo con l'iniziativa di Perotti 1-2 con Cristante alza il pallone Cristante per coinvolgere azione Alexander Colaro guardatore del gol dell'1-1 adesso sta pensando ad altri cambi il tecnico Gaisca Garitano e allora Mancini Pellegrini guadagna metri c'è lo scarico facile per Spinazzola pronto ad effettuare il cross poi si ferma lo scambio con Lorenzo Pellegrini ancora Cristante l'appoggio laterale per Colaro cerca lo spazio per il cross non lo trova viene fermato da Raul Garcia che si batte per tenere lì il pallone ancora Raul Garcia cerca di verticalizzare viene fermato qui nel tentativo di affondo l'Atleti Bilbao andiamo a bordo campo Alessandro sono pronti due cambi per la Roma stanno per entrare Dzeko e Klaivert usciranno De Frel e Perotti dunque Dzeko e Klaivert per De Frel e Perotti non cambia nulla nell'assetto tattico disegnato da Paolo Fonseca il suo 4-2-3-1 con il pallone giocato ancora per Ierai Martinez attaccato da Antonucci va via Martinez viene fermato in maniera irregolare calcio di punizione per l'Atleti Bilbao Sì una partita adesso quasi a senso unico prova a modo suo il Bilbao di risalire ma è più che altro una gestione della palla giallorossa per cercare di trovare adesso la giocata vincente adesso ecco l'ingresso di Edin Dzeko e Klaivert forse fresche vediamo se la Roma riuscirà a trovare il Varco e la giocata la giocata vincente adesso con la maglia numero 34 sulle tre di gioco anche Justin Klaivert entra Edin Dzeko che va ad indossare la fascia di capitano che gli viene consegnata proprio da Diego Perotti insomma ci sono tanti gesti importanti anche i tifosi della Roma che inneggiano ad Edin Dzeko dentro anche Justin Klaivert siamo arrivati esattamente al ventitresimo metà di questa ripresa non è che termina in fallo laterale la rimessa per la Roma con Alexander Kolarov con questo 4-4-1 disegnato adesso dall'Atleti Bilbao con Silzo William lì davanti Mugnain a sinistra e dalla parte opposta Raul Garcia gli interni di centrocampo sono rimasti gli stessi è andato a fare il centrale il nuovo entrato Nunez posto di Cordoba scivola l'Atleti Bilbao su questo tentativo di far girare il pallone da parte della Roma ora l'appoggio centrale per Edin Dzeko che cerca il colpo di tacco palla riconquistata ancora dalla formazione spagnola fallo questa volta su Dani Garcia calcio di punizione qui all'estero Roma può approfittare sicuramente di questa superiorità numerica beh direi direi di sì ma infatti è cambiata un po' anche tutta l'inerzia della gara fa fatica adesso l'Atleti Bilbao venire nella metà campo opposta ecco se non con qualche lancio improvviso qui il pallone riconquistato ancora l'Atleti Bilbao con il solito Martinez che ha giocato da centrale qui sbaglia però l'appoggio la puoi ripartire Roma con Antonucci che a qualche metro cerca la giocata viene fermato e poi il pallone che viene allontanato da Mugnain aveva suggerito subito un bel movimento Dzeko Alessandro che si è aperto immediatamente non l'ha vista Antonucci dopo è andato in dribbling se avesse alzato subito la testa dopo il primo controllo c'era la possibilità di servire la profondità dalla parte opposta Dzeko ora palla per Cristante in posizione centrale raccoglie Lorenzo Pellegrino scambio indietro con Mancini ancora Cristante posizione centrale pallone che viene arricato per Alexander Colaro vada un occhiato in mezzo lo scambio sempre con Cristante che viene in appoggio Pellegrini pallone lungo la sponda da parte di Dzeko palla che si impegna entra nella rigore ma arriva anche il fischio da parte di Marischi adesso mentano le soluzioni offensive per la Roma Alessandro perché è chiaro che De Frey ha caratteristiche totalmente diverse da Dzeko adesso quando vedi sono molto chiusi anche una palla morbida alta permette a Dzeko di andare a duello di testa e spesso la prende infatti adesso era stato bravo a cercare una sponda per i compagni pronto al rinvio adesso Unai Simon andiamo a bordo campo dal nostro Matteo Vespasiani allora Alessandro è stato richiamato Santon da Fonseca si sta preparando al cambio dovrebbe naturalmente prendere il posto di Spinazzola vedremo aspettiamo la conferma era preoccupato per le condizioni di Pellegrini Fonseca è andato a chiedere come stesse e ha fatto cenno ok Pellegrini eccolo qui proprio Lorenzo Pellegrini che va a girare il pallone per Alexander Kolarov largo sulla corsia di cesta il cross da parte di Kolarov qui c'è un'ottima chiusura di Irai poi allontana Raul Garcia prova a battersi mezzo al campo ancora Dani Garcia che però perde palla nel controllo ora Cristante dopo l'appoggio di Pellegrini la sponda di Gego indietro per Kolarov cerca di trovare spazio la Roma con Cristante poi Lorenzo Pellegrini palla larga verso Spinazzola cerca lo spazio per il cross ancora Spinazzola si ferma vuole il redrim il pallone sul sinistro sul secondo palo la chiusura parte di Kappa che prova ad andare l'appoggio centrale qui perde palla ancora Atletic con Laro per Antonucci alza il pallone per Spinazzola lo ferma Mugnain dunque dentro come diceva Matteo Espaziani proprio Santon Pellegrini la sponda di Klaivert che viene in posizione più centrale poi palla che viene allargata per Leonardo Spinazzola che aggancia nuovamente il pallone Antonucci Pellegrini ancora Antonucci il tentativo di Cristante che poi cambia gioco il cross in mezzo l'uscita di Simon non perfetta però è un po' prevedibile questa traiettoria di Kolarov perché ho del tempo di guardare poi metterla morbida in mezzo è chiaro lì il portiere attento va subito in presa non ha messo neanche una palla velocissima che può creare indecisione nell'eventuale uscita dal portiere una palla che viene recuperata nuovamente dall'Atletic con questa manovra il pallone che viene appoggiato indietro e allora si va ancora verso Simon scambio con Dani Garcia centrocampo c'è un giocatore a terra dell'Atletic Bilbao che è già in dieci proprio Raul Garcia intanto sta per entrare Santon e intanto Gaisca Garitano credo sarà costretto ad un cambio che rimane a terra dalla parte opposta proprio Raul Garcia chiede l'ingresso in campo dello staff medico dell'Atletic Bilbao esce proprio Leonardo Spinazzola dentro Santon Matteo Vespasiani da Bordocampo sì Alessandro non si capisce bene se è un cooling break concordato se i giocatori si stanno dissetando aspettando il cambio comunque sicuramente c'è un po' beh come tempi ci siamo eh ci siamo sì ci siamo c'è un po' di stanchezza naturalmente anche perché Garitano ha tenuto quasi tutti in campo i giocatori naturalmente sono andati a dissetarsi la Roma ha ruotato di più altro cambio ora in panchina anche insomma a dare un'occhiata non vediamo cambi ancora possibili quindi questa è la squadra che ha fatto ruotare all'annetto naturalmente dei non convocati Paolo Fonseca mentre per il momento Raul Garcia sembra poter proseguire rimessa laterale per l'Atletic di Bilbao quando siamo arrivati esattamente alla mezz'ora della ripresa 1-1 il risultato al gol nel primo tempo realizzato da Mugnain è arrivato il pareggio splendido di Alexander Colarov al quindicesimo vediamo un po' intanto se si procede alla sostituzione ma Raul Garcia sembra comunque tenere duro rimanete in campo e allora l'appoggio ancora per Yirai Nunez Simon Dani Garcia sbaglia e allora Fazio mette giù il pallone Santon ecco il primo pallone toccato dall'esterno giallo-rosso lo scambio con Mancini Fazio l'appoggio centrale per Pellegrini cerca la fiondata in mezzo ma il pallone non filtra c'è il fallo di Antonucci arriva anche il giallo per Antonucci fallo da dietro su Mugnain adesso è una partita che è sembrata più vicina ad una gara ufficiale che era una Michele sì perché ti ripeto loro non si risparmiano mai c'è stato qualche scontro qualche entrata bella decisa che per carità ti porta in condizione anche quello l'importante è che non ci sia l'intenzione di farmare all'avversario perché l'espulsione anche nei confronti del fallo su De Frelle che poi ripeto è stata più plateale che dolorosa perché poi abbiamo visto De Frelle che ha continuato senza nessun problema sì sì perché lo ha colpito esatto l'ha colpito un po' con la gamba di richiamo è stato più lo spavento ora calcio di punizione per l'Atletic con Ierai cerca la soluzione lunga verso Raul Garcia che è rimasto in campo K appoggio indietro il cross morbido all'interno dell'area di rigore Fazio pulisce l'area di rigore Pellegrini costretto a girarsi qui ci viene però rubato il pallone la conclusione con il fallo di mano e c'è calcio di rigore perché Alessio qui sì sulla conclusione da parte di Dani Garcia c'è stata deviazione con una mano sì grazie a Raul Garcia Alessandro perché sono andati in pressione su Pellegrini che è stato subito prestato lì fuori dall'area di rigore sì sì no Dani Dani Garcia e poi la vedi la conclusione che va a impattare sulla mano sinistra di Mancini credo adesso è calcio di rigore Raul Garcia è quello che si sta prendendo la responsabilità di calciarlo Raul Garcia che doveva uscire può portare in vantaggio l'Atletic Bilbao che è in inferiore numerica ma qui la Roma ha perso un brutto pallone proprio al limite sì perché era stato bravissimo Fazio a svettare e a liberare l'area su una palla pericolosa proprio nei confronti di Raul Garcia che si era inserito poi Pellegrini pressato alle spalle fuori l'area di rigore ha perso palla e la conclusione è andata a stamparsi sulla mano sinistra di Mancini tutto pronto per questo calcio di rigore che cade esattamente al trentatresimo Raul Garcia contro Paolo Lopez chiaramente Paolo Lopez conosce molto bene i giocatori dell'Atletic di Bilbao vediamo un po' parte Raul Garcia che spiazza Paolo Lopez per il vantaggio spagnolo ha incrociato il tiro ha fintato di aprirlo poi con l'interno che è sempre il modo di calciare che ti dà maggiore sicurezza nella gestione del pallone Paolo Lopez ha battezzato l'angolo alla sua sinistra ed è stato spiazzato andiamo a bordo campo dal nostro Matteo Vespasiani per capire come ha assorbito Paolo Fonseca il gol ma anche l'errore direi da parte della Roma in fase difensiva Alessandro non ha detto nulla ha aspettato l'esito del rigore e poi ha spronato i suoi calciatori naturalmente ad una reazione dunque 2-1 per l'Atletic Roma che ha adesso a disposizione 12 minuti per trovare il gol del Parigio tanto vedo però cambio in vista per la formazione basca e adesso Zaniolo Fazio vediamo se c'è la reazione immediata della Roma con Cristante poi Colaro si va a vedere Antonucci ancora l'appoggio centrale per Lorenzo Pellegrini la larga per Mancini Zaniolo si infila all'interno del rigore Zaniolo il pallone che viene riconquistato ancora dalla Roma con Lorenzo Pellegrini che voglia di riscattarsi Cristante Colaro lo scambio sempre con Cristante possibilità di verticalizzare attenzione a Colaro che si propone largo non viene visto ancora Brian Cristante si gira trova Mancini adesso è molto chiuso l'Atletic è difficile filtrare palla larga per Santon possibilità di andare alla cross poi Zaniolo cerca di trovare il pallone per Colaro che va al volo non riesce però ad impensieria difesa dell'Atletic si giusto cercare di metterla in mezzo di prima intenzione ma non è riuscito a trovare compagni troppo sul portiere il suo assist dentro il bosniaco Kenan Kodro che ha origini basche e allora per questo può giocare con l'Atletic di Bilbao tra l'altro proprio Kenan si è soffermato prima della gara con Edin Dzeko sulla panchina prima del riscaldamento per tanto tempo i due hanno parlato seduti in panchina e adesso ancora Roma che prova ad uscire con questo pallone largo per Santon Matteo siamo stati proprio testimoni il giocatore che sta per entrare in campo del lungo colloquio che ha avuto Dzeko con Kenan Kodro si sono incontrati all'uscita del tunnel poi sono rimasti a parlare per molto tempo sono episodi che vediamo spesso Alessandro quando questi giocatori poi magari si vedono solo in nazionale si rincontrano casualmente per una partita c'è sempre grande affetto e si parla sempre molto si sono proprio messi seduti tranquilli a parlare anche perché Dzeko non doveva partire dall'inizio e quindi una prassi alla quale assistiamo solitamente fuori Williams che ha lottato molto dentro Kodro e chiaramente è il terminale offensivo adesso per questi ultimi dieci minuti dell'Atletic su pallone largo per Collaro bellamente giù la Roma prova a cercare il gol del pareggio per evitare la prima sconfitta in questo precampionato Mancini largo il suggerimento verso Santogna inserimento di Pellegrini ancora Mancini Roma che fino a questo momento ha effettuato un percorso sicuramente molto importante percorso netto per la formazione di Paolo Fonseca anche se poi i risultati il bene o il male aiutano ma insomma hanno una valenza relativa nel precampionato palla per Antonucci che vuole girarsi tutto schiacciato nella propria tre quarti di Atletic suggerimento largo per Santon che riesce in qualche modo a crossare inserimento di Pellegrini poi Cristante cerca di mettere giù attaccato proprio dal bosniaco Codro giro palla della Roma con Collaro che fa viaggiare Dzeko che si è decentrato ancora il pallone per Alexander Collaro una gran palla quella di Dzeko ma c'è la segnalazione di fuori gioco si è alzata la bandierina molto prima delle cross di Alexander Collaro ma non sono sicurissimo però peccato perché non l'ha sviluppato bene con un bello il cross forte di Collaro ma più che altro l'attacco sul primo palo di Zaniolo che era andato a cercare l'anticipo infatti aveva messo in porta per il due pari è stato bravissimo qui Zaniolo devo dire è bella anche la palla decisa di Dzeko per la seconda posizione di Collaro è pronto al rinvio Junai Simon quando mancano sette minuti alla fine di questa partita poi l'undici lo ricordiamo chiaramente la presentazione già rossa con il Real Madrid adesso il pallone che si impinna palla che viene messa giù da Mugnain viene attaccato ma recupera ancora Codro un paio di dribbini da parte delle Bosniaco poi Mugnain largo per Chiappa Junai Lopez ha dirottato il pallone verso il centrale Ierai che sbaglia però in uscita ora Zaniolo per Collaro preciso il pallone verso Antonucci il cross sul secondo per Dzeko troppo lungo questa volta per Edin Dzeko che non può neanche saltare neanche provare e qui si poteva fare meglio Antonucci aveva la possibilità di controllare ma soprattutto si era accorto che già tre compagni avevano attaccato hanno riempito l'area di rigore ha sbagliato la traiettoria del cross infatti Dzeko gli sta facendo ancora cenno che doveva mettergliela bassa perché era andato in anticipo ora il fallo laterale per l'Atletic e Bilbao mantiene alta la pressione comunque la Roma per cercare di recuperare il pallone prima possibile prima soprattutto che termini questa partita perché Roma vuole evitare la sconfitta adesso sale ancora Santon palla per Cristante guadagna qualche metro poi Pellegrini largo il pallone per Santon Zagnolo cerca di infilare il pallone adesso Mugnain lo scambio Pellegrini poi Mugnain voleva il fallo ma perché secondo lui aveva subito fallo Alessio da Pellegrini ma in realtà invece Pellegrini come ha mimato proprio Madeschi aveva preso il pallone 40 minuti la ricerca del gol del pareggio e allora Fazio per Cristante verticalizza ancora per Klaivert Pellegrini non ci sono spazi partita di sofferenza addirittura Alessio della tre di Bilbao che rimane dietro ad aspettare ovviamente la Roma Colarov pensa al cross e consente però a fermarsi sta allenando un po' quello che sarà forse anche la loro prima partita di campionato dove contro il Barcellona dovranno subire molto l'iniziativa dei catalani ora Pellegrini Zaniolo Cristante non ci sono Varchi ancora palla larga per Antonucci continua questo possesso palla infinito della Roma ma si riesce a trovare la soluzione giusta altro cambio in vista per l'Atletic Bilbao sta per entrare Besga Matteo si uscirà Unai Lopez uscirà dunque Unai Lopez maglia numero 8 in mezzo al campo ottimo giocatore Santon valla per Dzeko che prova a far valere il fisico entra la rigore poi Antonucci non riesce a filtrare valla che termina direttamente sul fondo siamo al 41esimo dunque con la maglia numero 25 Besga sul terreno di gioco fuori Alessio un ottimo centrocampista che abbiamo apprezzato oggi come Unai Lopez si mi ha fatto una buona impressione è un giocatore bravo a far girare la squadra molto lucido sempre appunto con i tempi giusti nel muovere la palla è anche una buona anche lui una buona dose di personalità di grinta quando va in contrasto con gli avversari eccolo qui Unai Lopez inquadrato dalla regia al suo posto con la maglia numero 25 Besga pronto al rinvio invece Unai Simon portiere dell'Atletic Bilbao campionati che pian piano stanno cominciando pronto al rinvio adesso proprio Unai Simon l'Atletic Bilbao debutterà come dicevamo il 16 ma pian piano tutta l'Europa si sta allineando l'Italia che invece aspetterà qualche giorno in più il 25 prima partita per la formazione di giallossa in realtà campionato che poi parte però il 24 con le gare di anticipo Zaniolo non ha accompagnato questa volta Santoni una Roma Alessio che adesso fa fatica un po' a credersi anche essendo diciamo così nel suo periodo numerico si devo dire che abbiamo visto spesso un monologo della Roma che fa girare palla nell'altro quarti avversaria però non è mai riuscito a imbeccare gli attaccanti o comunque gli attaccanti a prendere iniziative importanti perché poi quando non si riesce a filtrare lì devi far valere la capacità balistica degli attaccanti nell'uno contro uno devi andare a puntare e a cercare la giocata importante mettiamoci ci riusciamo adesso con Kolarov classica finta l'appoggio per Klaivert la Roma che attacca nel finale ancora Justin Klaivert lo scambio con Mancini c'è largo pronto a ricevere Santon altrimenti bisogna essere rapidi nel fare il giropalla saltarlo anche un passaggio per andare dalla parte opposta e andare al cross e mandare a duello all'interno dell'area di rigore i compagni ancora Klaivert all'interno dell'area di rigore Fabio Cenericolaro con il pallone messo in mezzo qui c'è pallo di mano non se ne accorge Maresca che poi invece assegna il calcio di rigore che era nettissimo era sembrato che si è allora tirato a Zaniolo sulla sua mano però vorrei rivederlo infatti stanno protestando i giocatori del Bilbao adesso rivediamo si arrabbiano moltissimo i giocatori dell'Atletic vediamo cosa è accaduto Arrabbio sta sentendo il suo assistente lo stanno dicendo a Zaniolo forse di dirglielo vediamo cosa è accaduto qui Alessio la conclusione di Zaniolo non la colpisce se la dà sul suo di braccio se la tirata sul braccio in questo caso poi non so se dopo c'è stato un altro tocco no e quello chiede di aspettare il direttore di gara vuole parlare con il suo assistente ma ha segno il calcio di rigore adesso no sta andato da Zaniolo a chiedergli eventualmente di dirgli se se la tirata sul braccio non la prende bene il giocatore dell'Atletic rimane adesso il calcio di rigore episodio molto curioso e allora calcio di rigore che va a battere Lorenzo Pellegrini se vuole con decisione il pallone intanto Marisca assegna il calcio di rigore ancora a protestare Raul Garcia ma c'è il calcio di rigore Lorenzo Pellegrini contro Iunay Simon anche Dzeko a parlare con il direttore di gara i giocatori dell'Atleti Bilbao vorrebbero che fosse Zaniolo un altro adesso io non ho visto se c'è stato sinceramente un altro tocco quello successivo non lo so ma sicuramente è stata chiara l'immagine infatti si stanno arrabbiando per questo è comunque un nemico di Degli che se l'ha tirata su un braccio protesta molto Martinez Lorenzo Pellegrini a battere questo calcio di rigore Matteo sì Alessandro vai nella mentele seguiamo rigore poi andiamo al commento per capire cosa si sono detti in panchina parte Lorenzo Pellegrini che fa centro 2 a 2 con il calcio di rigore trasformato proprio da Lorenzo Pellegrini nel finale della partita Matteo Allora Alessandro voi avete le immagini magari avete commentato io non avevo dei problemi di audio quindi non so cosa avete commentato intanto ci sono 5 minuti di recupero Garitano tutta la panchina diceva l'aveva toccata Zagnolo con la mano poi c'è stato un confronto tra arbitri naturalmente questo è certo Matteo te lo confermiamo ah ecco e quindi sono andati a parlare con gli arbitri però poi la decisione è stata presa anche il quarto uomo ho parlato anche con il quarto uomo che naturalmente ha confermato che aveva visto un tocco di mano evidentemente la dinamica del campo il quarto uomo è dalla mia posizione non era molto chiara e allora 2 a 2 con il gol di Lorenzo Pellegrini Alessio devo dire per fortuna siamo soltanto in una amichevole si beh se ci fosse stato il VAR probabilmente questo rigore sarebbe stato tolto si ma insomma onestamente possiamo dirlo non è che da questi microfoni possiamo dire che Zaniolo non ha toccato il pallone con un braccio esatto tra l'altro ecco anche il calciatore oggi deve assumere ma siamo sempre gli amici no però deve assumere una magari Alessio possiamo però non sapere quella che è stata un po' la percezione di Zaniolo se lui lì ha visto un altro tocco che noi non abbiamo visto questo non possiamo dirlo ti ripeto se ce n'è stata una successione non lo so però la sente la palla che l'ha mancata e se l'è data su un braccio sinceramente comunque calcio di punizione per l'Atletic di Bilbao Mucchio a ridosso dell'area di rigore prova a salire nuovamente la formazione di Garitano il pallone dentro palla che viene deviata in calcio d'angolo ultimi minuti di gioco sono cinque come abbiamo già detto i minuti di recupero sono stati assegnati calcio d'angolo per l'Atletic quando siamo arrivati ormai al quarantasettesimo attenzione a questo cross bisogna fare molta attenzione a marcatura all'interno dell'area di rigore occhio al Mucchio dentro il cross il giocatore Atletic che tra l'altro era anche scivolato si Mugnain al momento della battuta gli è scivolato il piede d'appoggio infatti la traiettoria è uscita è uscita e ha segnato la rimessa da fondo ora Cristante poi Pellegrini verticalizza per Santon riuscito a prendere bene il tempo attenzione al doppio movimento all'interno dell'area di rigore riesce ad uscire l'Atletic Bilbao il fallo laterale che va a battere lo stesso Santon poi palla che finisce all'interno del rigore il calcio di pensione per l'Atletic 2-2 il risultato 2-2 l'Atletic Bilbao l'aveva già ottenuto contro il West Ham un'altra amichevole sicuramente molto importante l'Atletic Bilbao che poi nella partita successiva ha perso 2-1 con il racing di Santander pronto al rinvio Unai Simon il destro lungo prova a saltare del solito Raul Garcia palla per Kenan Codro la sponda di Dzeko ma c'è la chiusura di Nunes e finisce qui primo pareggio per la Roma in questo precampionato 2-2 con l'Atletic Bilbao una partita Alessio devo dire neanche troppo divertente con tanti gol l'Atletic che ha giocato quasi come fosse in campionato molto attento anche a punto di vista Tati a non subire Sì devo dire una partita non bellissima non brillantissima abbiamo trovato anche un campo non in perfette condizioni oggi che ha condizionato un po' la manovra ci sono stati diversi errori tecnici la Roma recupera un pareggio con un rigore abbastanza discutibile quando ancora stanno lì in campo a parlare e comunque passa un altro amichevole contro un avversario di tutto rispetto che ci ha impegnato molto sia dal punto di vista dell'intensità del contrasto della fisicità disputando disputando comunque una buona amichevole Andiamo subito a bordo campo da Matteo Sì Alessandro per raccontarti dell'abbraccio tra Garitano e Fonseca Garitano abbiamo percepito le sue parole dispiaciuto per l'episodio che ha portato all'esposizione di giuri naturalmente siamo in una amichevole e poi sicuramente hanno parlato anche della dinamica finale ma un grande abbraccio tra sorrisi è sempre un amichevole e dunque e dunque finisce due a due ricordiamo i marcatori grazie a tutti